Buona settimana, noi già siamo operativi con la nostra aristagliacrumi, eccola qua. Adesso cosa abbiamo in forno? Aristagliacrumi, Beppe. Vittorio, dopo cosa cuciniamo? Beppe, una meravigliosa trippa al sugo. E a te piace la trippa al sugo? Wow! Passiamo dalla costoletta, proseguiamo con la salsiccia, passiamo allo spirino, sempre fresco, eccoci agli straccetti, ed ecco la nostra cervellatina, fresca, gustosa, guardate qua. Tu ci si infondo il nostro colpettone, ormai lo conoscete tutti, il top del top. Ragazzi, ho bisogno di un vostro consiglio. Ma secondo te cosa era successo? Sì, è tutto l'altro. Oh! Sabature, senti, te lo posso chiedere un attimo questo consiglio? Tutto tutto quello che vuoi, ma non parliamo dei regali di Natale, perché non avete combinato questo e vizio, è bello. Eh! Senti, Beppe, io ti devo chiedere un consiglio, seriamente. Vittorio, senti, io già so che cosa mi vuoi dire. Tu mi vuoi chiedere dei regali di Natale. I regali di Natale si devono fare, se no non è Natale, quindi tu a Maria ti devi regalare una cosa bella. Fra meno di un anno di sposo, ci devi fare un bel regalo. Punto e basta. Devi tenere fegato, Vittorio, ci vuole il fegato. Questo è fegato? Bravo! Perfetto. Ma Vittorio, ma Maria, chi ci ha chiesto a Maria per Natale? No, se ne si dà. Ma te lo devi chiedere tu. No, te lo devi chiedere. Puoi stai. Ma cosa ha chiesto a Maria per Natale? Sabatore, un iPhone X. Pitoccioso. Tempo qua tu hai capito? Sa se quello è un pitoccioso. Qua con un anello di brillante abbiamo avuto una sciarpa a Natale. Ma come si fa? È un pitoccioso. Non sono pitoccioso. Mi piace risparmiare.